se ieri è stato caparanno oggi è un po' prima dell'anno e se è buon anno si vede le segne, si vede da piccoli segnali, da indicatori ma è banale. Buon 2015, o sole è alto in cielo, 4 che squatta protagonista, la numerologia, quella è positiva no? 2 più 0 più 1 più 5, uguale 8, infinito, bellissimo simbolo, metti l'8 a dormire e non lo stai, o infinito, un bello simbolo, si va bene i simboli, si va bene o sole, però adesso devi anche andare a piazza Euclide a incontrare un amico, un marchettino nazionale, e ci vuole anche un mezzo, e se è un bel mezzo come fa? che basta l'indizio, come devo girare? la terza, prodotto italico, 599 GTP, secondo te sto male, buon 2015, e spero che è passato un buon caporanno, via la vita, tutta la vita, bella per te, secondo te sto male, mi lascio il posto, non è? grazie 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 grazie